E ora diamo la parola al nostro Presidente del Consiglio. Le accuse che hanno formulato nei miei confronti sono totalmente infondate e addirittura risibili. Il dirigente della polizia che sarebbe stato concurso da me nega di esserlo mai stato. E la persona minorenne nega di avere mai avuto né avance né tantomeno rapporti sessuali e afferma di essersi presentata a tutti come ventiquattrenne fatto avvalorato da numerosissime testimonianze. Cari amici, la mia vita di imprenditore mi ha insegnato quanto sia difficile avere rapporti con una donna. Perciò nel corso della mia vita ho pagato per avere decine di migliaia di prestazioni sessuali. E sono orgoglioso di averlo fatto e continuerò a farlo. A me piace, lo sapete, commettere ogni abuso senza mai, mai doverne rendere conto. Va troppo caldo.